Ragazzi, lui è Fefe. Giulio, mi sa che Fefe è morto. Da mo' che è morto Fefe? È un cadavere imbalsamato che si usa al primo anno di anatomia. Fefe è una specie di mascotta da queste parti. Ragazzi, ma non dovevamo prendere del idrossido di sodio? Ma Fefe è pieno di idrossido di sodio. È la base dell'imbalsamazione. Io speravo stesse un'ampolla, un'alambicco, baratto. Ma come si estrae l'idrossido di sodio da Fefe? Lo apriamo e lo prendiamo. In che senso lo apriamo e lo prendiamo? Non è mica una scatoletta di tonno? Dai, Arturo, su, dobbiamo sbrigarci, abbiamo poco tempo.